il primo eroe 3 stelle della famiglia, cioè della chiamata del Valhalla è Agnes Agnes è un rapido giallo che ha 556 di attacco, 486 di difesa, 491 di salute la sua abilità speciale è quella di infliggere 320% di danni al bersaglio l'attacco ha il 60% di probabilità di superare emergine benefiche difensive contro attacchi inclusi in più fa parte della famiglia, che non mi ricordo il nome, qua non me lo dice vabbè, è una famiglia che alla sua morte tutti gli alleati ricevono una quantità di mana ciao Johnny5, ciao, com'è dall'altro lato Johnny? allora quest'eroe per me ovviamente è un eroe da alzare perché è il miglior giallo 3 stelle in circolazione c'è un ottimo danno destro, un'ottima difesa, è un po' carente in salute come vedete 492, non è proprio il massimo ma è un rapido con una speciale veramente paurosa in più il fatto che quando muore gli alleati ricevono una quantità di mana è anche un vantaggio assolutamente dall'altro lato da un lato sostanzialmente averlo quindi per me Agnes è da alzare poi andiamo a vedere c'è Andui Anwinder che è un viola lento, 424 di attacco, 504 di difesa, 792 di salute in cui l'abilità speciale è che l'eroe riceve il più 45% di attacco che aumenta del 20% ogni volta che lui o i suoi alleati viene colpito nell'arco di 3 turni e questo effetto termina, quando termina questo effetto tutti i nemici subiscono 164 di danno ogni colpo subito dall'eroe e dai suoi alleati questo effetto aumenta i danni di 10 fino al massimo di 284 danni o meglio quando l'eroe parte aumenta l'attacco questo attacco aumenta ogni volta che lui o i suoi alleati viene colpito e in più, quando l'effetto termina ossia dopo i 3 turni lui parte e fa 164 di danno a tutti i nemici questi 164 come l'aumento d'attacco aumenta per ogni alleato che viene colpito ogni colpo che subisce un alleato aumentano anche questi fino al massimo di 284 di danno quindi è una speciale ottima però purtroppo ragazzi poco danno tessera ha sì una buona difesa e una buona salute ripeto la speciale è ottima ma è poco decisivo e incisivo perché? perché purtroppo è lento assolutamente lento quindi per me è un eroe da non alzare poi c'è Bjorn Bjorn è un viola medio che ha 458 di attacco 437 di difese e 827 di salute la sua abilità speciale è quella di infliggere 200% di danni al bersaglio ed infligge il 350% di danni a un nemico diverso a caso ed infligge danni extra se il bersaglio è sacro quindi che vuol dire? che lui è un medio che attacca un bersaglio poi casualmente a caso attacca un altro avversario se questo avversario è sacro gli fa anche il doppio dei danni purtroppo non si può non si può scegliere un giallo cioè nel senso che il secondo non si può scegliere l'obiettivo del secondo va a caso altrimenti sarebbe stata una speciale veramente veramente devastante però ciò non toglie che ha buon danno tessera buona difesa, un'ottima salute e questo oltre alla sua speciale che è figa lo fanno schizzare in alto tra i viola 3 stelle lo rendono particolarmente valido come eroe è un'alternativa sostanzialmente ai cecchini ed è assolutamente un eroe che può essere utilizzato in varie modi sia in difesa sia in attacco senza tanti problemi ed è un eroe ovviamente da alzare senza pensarci su vai ulf è un medio bevo è un medio verde che ha 436 di attacco 446 di difesa e 865 di salute e la sua abilità un po' particolare è complessa però l'eroe e gli alleati vicino ricevono più 48% gli eroi alleati ricevono più 46% di difesa e gli eroi alleati vicini recuperano 612 HP dopo 4 turni però che cosa succede? che l'evocatore, ossia lui subisce dei disturbi dopo i 4 turni quali sono i disturbi? che riceve meno 34% di attacco meno 34% di difesa e meno 24% di rigenerazione mana e questi 3 effetti non possono essere annullati per me questo eroe ha valori per essere effettivamente un tank centrale anche se per i 3 stelle è troppo dire un tank perché purtroppo viene comunque sostituito e surclassato da qualunque tipo di eroe 4 o 5 stelle ovviamente sia i valori sia la speciale lo rendono praticamente ottimo in difesa un ottimo tank difensivo ripeto il problema qual è? è che dopo 4 turni lui stesso si dà dei malus e questo lo penalizza lo penalizza tanto in più metteteci che è un medio quindi già di suo ci mette più del solito più di un rapido praticamente di a partire inoltre l'altra pecca che non aiuta tutti ma solo i due vicini lo rendono per me un eroe da non alzare al momento ovviamente se non in particolare i tornei o sfide che si può utilizzare però onestamente alzare un eroe del genere perché forse in un determinato torneo o evento mi può servire e non la trovo una scelta molto saggia diciamo così Eidun Eidun è un rosso medio che ha 422 di attacco 481 di difesa e 851 di salute infligge 240% di danni al bersaglio e nemici vicini il bersaglio e nemici vicini ricevono il meno 24% di rigenerazione umana per 4 turni purtroppo ragazzi a poco attacco ha un'ottima difesa si è un'ottima salute ok è medio e ci può anche stare ha una buona speciale però secondo me è uno di quegli eroi che sta nel limbo cioè nel senso che non è il massimo in attacco non è il massimo in difesa può essere utilizzato solo in alcuni eventi soprattutto nelle sfide magari può essere utilizzato o in alcuni tornei particolari quindi di conseguenza vi consiglio di non alzare questi eroi e di dedicarvi ad altri perché ci sono altri eroi che sono migliori sia in attacco che in difesa poi andiamo al mio pupillo Grevle è un eroe medio verde che ha 403 di attacco 613 di difesa 623 di salute la sua abilità speciale è quella di aumentare di 250 la salute di tutti gli alleati se la salute superi gli HP massimi viene utilizzato come HP temporanei e tutti gli alleati in più ricevono il più 30% di attacco per 4 turni è praticamente giusto per rimanere nell'ambito di Evalalla è un Emidal 3 stelle praticamente con la differenza che ha anche un buon danno tessera che non è il massimo ovviamente perché è comunque poco come danno tessera però facendo il confronto con Emidal che ha praticamente lo stesso tessera di Grevle è un bello 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 benvenuto corto maltese quello vero ovviamente come dicevo questo eroe per me è uno dei migliori eroi verdi 3 stelle perché è un un eroe che vi aiuta sia in difesa che in attacco perché il suo aumentare di 250 la salute come potete notare 250 di salute su un 3 stelle è normale perché lui purtroppo non ha tanta salute ha una buona salute ha tanta difesa però come vedete 250 è tanta roba quindi di conseguenza un eroe che vi aumenta tutti i vostri eroi di 250 la salute vuol dire che per un 3 stelle è veramente tanto cioè vanno quasi sicuramente oltre gli hp normali e quindi diventano hp temporanei in più se non bastasse il fatto che cura e cura anche quando sono tutti carichi aumenta anche l'attacco del 30% di tutti quindi è veramente tanta roba ed è veramente un eroe da alzare senza pensarci su janvur è un blu rapido che ha 500 di danno tessera 422 di difesa 775 di salute la sua abilità speciale è quella di infliggere il 285 di danni al bersaglio e in più l'eroe riceve il più 10% di attacco cumulabile fino al massimo di 10 volte quindi se la prima volta parte al più 10% di attacco la seconda volta se è ancora attiva la cioè se è ancora il 10% di attacco da prima diventa 20% di attacco 30% di attacco fino a un massimo di 10 volte si può impilare la cosa ha un buon danno tessera una buona difesa e una buona salute è un rapido con una buona speciale perché alla fine un rapido che attacca e fa 265% di danni in più si aumenta l'attacco del 10% è un ottimo eroe può essere considerato quasi un cecchino perché il danno che fa comunque è elevato però c'è sempre un però o meglio che ci sono altri eroi tre stelle blu che secondo me hanno la precedenza quindi lui diventa una valida alternativa agli altri tre stelle che ci stanno in giro o meglio i migliori tre stelle che ci stanno in giro blu e quindi di conseguenza per me rimane un eroe da non alzare o meglio non c'è fretta per alzarlo meglio dedicarsi ad altri eroi che escono facilmente magari rispetto a lui kovasir è un giallo rapido che ha 429 di attacco 424 di salute e 915 no 424 di difesa e 915 di salute la sua abilità speciale è quella di chiamare un servitore ape per ogni alleato con 15% di hp e 17% di attacco e ogni colpo del servitore perché qui è la particolarità ogni colpo che l'ape infligge al bersaglio che colpisce gli gli da praticamente 32 danni da veleno nell'arco di due turni e il bersaglio non può ricevere nuovi servitori questo eroe praticamente è un eroe anti servitori per essere un rapido è tanta roba è tanta roba per essere un rapido e chiamare comunque un servitore per tutti è utile può essere utile in difesa nei tornei ride o in guerra soprattutto col nuovo bonus lorda di neon morti e lo sfrutta a manetta perché blocca l'uscita dei servitori all'avversario o può essere utilizzato è una cosa che ho notato e ho visto una particolarità che magari non ci si fa caso subito che può essere può essere considerato un curatore voi mi dite perché che cazzo stai dicendo perché ve lo spiego subito può essere considerato un curatore nei tornei in cui non si possono usare i curatori perché questo perché lui essendo un tre stelle che rapido che da il servitore a tutti gli eroi che cosa fa questo servitore praticamente vi protegge la vostra salute degli eroi e quindi può essere considerata la stregua di un curatore in tornei in cui non si possono usare i curatori ed è un ottimo elemento per quegli elementi per quel tipologia là però qual è il problema il problema è che ci sono tanti altri gialli per me che possono essere utilizzati in svariati modi rispetto a lui lui è più un eroe come dire particolare per determinati momenti poi in più ha poco danno tessera la difesa anche la difesa in questo caso non è proprio il massimo ma ha tantissima salute questo lo fa lo rende molto più utile in difesa ovviamente che in attacco poi il fatto che i servitori tu non li puoi controllare quindi attaccano a caso attaccano random non lo rende proprio indispensabile in attacco quindi io gli preferisco altri eroi è un eroe che secondo me è più di nicchia più di un determinato aspetto un determinato obiettivo che voi volete che ne so utilizzare in un torneo oppure come ho fatto io l'esempio o nel nuovo bonus in guerra con il lord dei non morti però purtroppo è un 3 stelle non so quanto sia valida come cosa mettere un 3 stelle in difesa in guerra ovviamente intendo o altrimenti utilizzare un determinato torneo ride che può essere come quello dei non curatori giusto per avere un'idea per me rimane un eroe da non alzare o meglio ci sono eroi migliori di lui da alzare prima questo è il secondo che alza da quando lo si trova con grave le si sclera ma il 15% vale anche per gli hp aggiuntivi presumo di sì perché il 15% non ho testato perché io non ce l'ho ma il 15% di hp viene considerato dall'eroe quindi se l'eroe ha gli hp temporanei presumo che valgano anche in quello ma onestamente a me tutte le volte che lo affronto non mi ha mai dato problemi ma nessun problema assolutamente anche perché dura poco ovviamente sono mio parere ripeto questi sono sempre i miei pareri non è che che è una cosa fissa per tutti poi arriviamo all'eroe diciamo tra i migliori che ci stanno ossia nordri perché vi dico così perché è un medio che ha 488 di attacco 406 di difesa e 818 di salute la sua abilità speciale è quella di infliggere 245% di danni al bersaglio e danni minori ai nemici vicino e il bersaglio e i nemici vicino ossia quelli colpiti ricevono il meno 54% di difesa da ghiaccio ragazzi è un abbattitore elementare blu quindi se non avete altri abbattitore elementare blu ossia sono solo due altri due che ci possono essere che sono frida che è un eroe del mese e reartù che è un eroe degli eventi se non avete questi due va alzato ragazzi senza se e senza ma non ci pensate nemmeno ha anche una ottima speciale perché fa tanti danni comunque poi inoltre se muore la sua famiglia gli da comunque un servitore quindi protegge comunque tutti gli altri è un eroe da alzare senza pensarci arriviamo all'ultimo tre stelle sudri che è un lento rosso 439 di difesa 484 di salute e 700 di difesa scusate 439 di attacco 484 di difesa e 775 di salute la sua abilità speciale è quella di infliggere 120% di danni a tutti a tutti i nemici infligge il 24% di danni aggiuntivi per ogni scudo fuoco sul campo di battaglia fino al 360% massimo di danni totali allora poco danno a tessera purtroppo ragazzi è una buona difesa sì ma è una buona difesa è anche una buona salute il problema è che è lento si attacca tutti si che infligge 24% di danni aggiuntivi per ogni tessera praticamente che ci sta sul campo di battaglia però secondo me ci sono altri eroi rossi che sono molto più performanti e hanno statistiche migliori quindi per me lui rimane un eroe da non alzare Porto Martese confermo me ne sono accorto tardi ma parli di Nord il presumo giusto purtroppo Nordi è un eroe che molti hanno sottovalutato all'inizio ma alla fine se non hai altri battitoli di difesa ragazzi battitoli di difesa serve serve tantissimo per me almeno per come gioco io l'euro l'euro l'euro